Finalmente la firma. Il contratto della durata di 5 anni tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la ditta Dasti è cosa fatta. Nei giorni scorsi la ratifica dell'accordo tra le parti era slittato più volte per la necessità di fare chiarezza su alcuni punti. La gestione del servizio rifiuti nell'ambito del nuovo piano Aro può quindi prendere quota. L'ultimo ostacolo che ha impedito di trovare l'intesa era legato alla gestione degli stipendi del personale, specialmente in caso di ritardo nei pagamenti, come è successo anche recentemente. Secondo le previsioni non si dovranno più sopportare disagi e rallentamenti nel servizio di raccolta dei rifiuti che dal prossimo primo novembre dovrebbe conoscere una nuova era. Proprio a partire dal giorno di Ogni Santi scatterà il contratto che darà notevole impulso alla raccolta differenziata, ciò grazie al sistema Eugenio, con 23 isole ecologiche mobili sparse su tutto il territorio comunale tra il centro, la zona di Pozzo di Gotto e quella di Sant'Antonino. Entro 12 mesi la raccolta dovrebbe funzionare a pieno ritmo. Determinante sarà anche la campagna di sensibilizzazione da rivolgere ai cittadini attraverso una capillare diffusione delle informazioni necessarie. Maggiore rilevanza sarà data anche al centro di raccolta ubicato nell'area artigianale di Sant'Andrea.